eccoci qua ragazzi eccoci qua eccoci qua abbiamo tanto di cui parlare ci siamo fatti un paio di giorni di relax come come spesso succede il il weekend ci sono tante cose di cui parlare tante cose di cui parlare fatevi salutare hola hermanito sono gia7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato e parliamo di questioni relative chiedo scusa alla difesa come sempre perché il focus è sempre sulla difesa in questo momento dobbiamo in cominciare a ragionare più sulle uscite ed anche sull'attacco perché ci sono delle delle novità sull'attacco in realtà finalmente è uscito anche un nome per il centrocampo nonostante io senta in giro che il napoli al centrocampo è completo e io non sono per niente d'accordo perché ci vuole una mezzala o slash trequartista che porti gollo ci vuole uno che faccia quel lavoro di legame tra i reparti ci vuole uno tecnicamente valido perdere zirinski come ha detto anche antonio conte e è una bella perdita e bisogna bisogna fare qualcosa bisogna assolutissimamente sostituirlo se riesco a trovare la notizia vi leggo proprio vi leggo di commento proprio questa notizia qui che era notizia di di repubblica per quanto riguarda il centrocampo eccola qui il napoli si è inserito per adrienne rabbiu eccoci qua notizia della repubblica il mercato dei parametri zero rappresenta un'occasione per tutti i club il napoli ha già colto la prima con il tesseramento di leonardo spinazzola ma le opportunità potrebbero non terminare qui secondo il quotidiano repubblica il napoli si sarebbe inserito per rabbiu attualmente svincolato il napoli si è inserito in maniera decisa nella corsa a rabbiu altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il sole game con la juve è finito lo scorso 30 giugno la mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo di bianconeri prende tempo nei confronti quella del milan e adesso valuta l'offerta del napoli con tecchissimo sforzo dell'aurentis per portarlo in azzurro sarebbe l'ideale sostituto di zielinski andata all'inter nei piani del nuovo tecnico del napoli rabbiu andrebbe a completare il trio di centrocampo composto da anghissà e lobotka anche se il trio di centrocampo di regola sarebbe più un duo poi ovviamente dipende dalla partita sicuramente rabbiu è quel tipo di calciatore adatto allo stile di gioco di antonio conte però io magari su questo risulterò molto controcorrente a me rabbiu non piace è un tipo di calciatore che non mi piace rabbiu è vero magari titolare della francia è vero corre tanto è vero un cavallo è vero quello che volete tecnicamente discreto però è proprio quel tipo di calciatore che non mi sa assolutamente di niente magari dieci anni fa avrei detto una cosa completamente diversa perché rabbiu quando era al pari mi gasava tantissimo pensavo potesse diventare uno dei centrocampisti più forti possibile immagine poi ha fatto un poco quel passo da centrocampista molto tecnico che magari ti dettava anche i tempi è diventato un qualcosa che non è né carne né pesce ovviamente se lo vuole conte lo voglio anche io questo è sempre questo discorso se conte lo vuole io lo voglio però secondo me c'è bisogno di un tipo di calciatore diverso perché rabbiu sarebbe quasi ovviamente nello stile di gioco non li sto paragonando un doppione di follow room show ripeto come stile di gioco come stile di gioco ovviamente rabbiu è più forte di follow room show per me per me comunque follow room show potrebbe fare meglio però questo è ovviamente un altro discorso ma non è il tipo di calciatore su cui andrei io tra l'altro non penso che il napoli voglia andare a prendere da più perché comunque percepisce uno stipendi elevato il napoli è anche abbastanza stanco di avere agenti scomodi e la gente di rabbio sappiamo che è molto scomoda e io andrei su un qualcosa di più tecnico andrei su un qualcosa che ti butta dentro più gol è vero che rabbio può fare anche i gol però dipende dipende da come giochi dipende dipende da come sta messo quell'anno io penso che sia un giocatore leggermente sopravvalutato un tipo di di modo di parlare che non mi piace parlare di sopravvalutato sottovalutato perché non è effettivamente parlare di pallone perché sottovalutato in base a che sopravvalutato in base a che però a mio avvio onestamente non fa impazzire poi dovesse venire perché è una richiesta esplice da antonio conta e allora lo accogliamo e siamo tutti contenti lo prendi pure a parametro zero e ci può stare cioè non sarebbe un colpo sbagliato semplicemente non sarebbe il mio colpo preferito penso che si possa dire questa cosa poi ragazzi c'è la questione relativa a mario ermoso ed anche quella relativa a mason greenwood io su mason greenwood ho fatto un tweet mi sono mi sono espresso su quello che che penso adesso vi leggo direttamente il mio tweet perché il napoli pare essere interessato al al calciatore e pare essere corso a tre con la lazio e col marsiglia lo tito ha rilasciato anche un'intervista in cui ha detto che ho offerto 25 milioni più bonus più una percentuale sulla rivendita poi sono inserite tutte le altre squadre ha parlato proprio di inserimento del napoli se si è lamentato dicendo pare che non vogliono abbiano paura che che lo prendiamo ma che significa semplicemente il calcio mercato che funziona così poi io onestamente preferirei che un calciatore del genere non calciatore del genere una persona del genere stesse lontana da napoli dalla squadra che comunque dalla squadra che io reputo abbia degli standard morali elevati con tutte le battaglie sociali che si stanno facendo a parte che non penso che napoli abbia quella forza societaria di avere una persona del genere all'interno del club ma ripeto proprio preferirei vivamente di no preferirei vivamente non non avere un calciatore del genere nel nella squadra che tifo perché fatico su molte cose scendere uomo e calciatore cioè quando si tratta di una questione eticamente così importante e moralmente così importante poi può essere giuventini i tenderi tutto tutto quello che vuoi ma su questo diventa diventa difficile adesso vedo a leggere quello che è il mio tweet relativo a meson greenwood sempre se lo trovo sempre se lo trovo non lo riesco a trovare perché evidentemente ecco qua ecco qua allora greenwood è un calciatore fortissimo questo è poco ma sicuro che ha un potenziale ancora più grande che farebbe bene in qualsiasi squadra d'italia questo per ciò che concerne il campo ma su questo è indiscutibile ragazzi greenwood è clamorosamente forte è clamorosamente forte e andrebbe ad innalzare il livello di qualsiasi squadra di serie a e probabilmente d'europa ambidestro gioca a destra gioca a sinistra gioca a punta veramente non gli manca assolutamente niente però penso che sia almeno giusto poi potete schierarvi da una parte dall'altra a me non interessa io questo è il mio pensiero però penso che sia almeno giusto fare un'informazione corretta per quanto riguarda il lato umano lui non è stato mai assolto questo è quello che mi dà fastidio non si può dire che sia stato assolto perché non è stato mai giudicato l'unico motivo per cui non è dietro le sbarre è che la sua attuale fidanzata e madre del figlio harry robson si chiama ha ritirato l'accusa come implicitamente dichiarato dalla polizia di manchester che aveva anche parlato di nuovo materiale venuto alla luce che ovviamente non è stato mai presentato il fatto che greenwood sia stato perdonato anche se graziato secondo me un termine migliore non significa che non abbia fatto quello che è chiaramente documentato ovunque per quanto mi riguarda preferisco che gente così rimanga lontana dalla squadra che tifo considerate anche le tante battaglie sociali portate avanti cioè quando facciamo poi il novembre ottobre il post contro la violenza sulle donne con quale credibilità lo facciamo con quale credibilità lo facciamo ragazzi parliamoci chiaramente e qui sento dire ma non significa nemmeno che lo abbia fatto si è innocenti fino a prova contraria magari a livello giuridico ok ma è letteralmente documentato quello che ha fatto greenwood cioè non si può dire che non l'abbia fatto semplicemente è stata ritirata l'accusa molto semplicemente magari la fidanzata l'ha perdonato esistono milioni e milioni di casi in cui queste cose succedono in relazioni che poi finiscono male neanche oggi simpson è stato è stato trovato colpevole significa che 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 non lo sia onestamente onestamente non credo e nel frattempo è uscita un'altra notizia ragazzi fresca fresca di croniche di spogliatoio patrick d'orgu piace molto ad antonio conte da un obiettivo di mercato del nuovo napoli lecce però chiede 18 milioni di euro antonino gallo è un'uscita perché vuole trovare una squadra con più ambizioni quindi responsabile dell'area tecnica pantaleo corvino non farà sconti corvino tiene molto la permanenza di d'orgu perché è convinto che lecce possa fare il salto di qualità così la buttiamo dentro così greenwood abbiamo parlato rabbiu ne abbiamo parlato adesso c'è da parlare invece di mario ermoso perché le fonti più importanti parlano di accordo praticamente raggiunto con il con il calciatore però bisogna aspettare le uscite non è non è ancora definito cioè non è definito con l'inter il napoli pare essere in vantaggio invece c'è marco giordano di tv play e spazio napoli che dice il club ha raggiunto l'accordo con mario ermoso il napoli il calciatore accettato l'offerta triennale con opzione per il quarto anno ora il napoli deve operare le uscite in particolare i difensioni mancini diverse squadre su natan con richieste di prestito per ora rifiutate quindi il napoli è praticamente ad un passo da mario ermoso deve solo fare deve solo fare qualche eccessione deve fare qualche eccessione deve muoversi sotto questo punto di vista perché le entrate è raro vedere il napoli che compra tanto non riesce e non vende tra l'altro sono curioso di vedere che abbiamo visto che manna è uno molto creativo con l'operazione abbiamo visto che uno che sa comprare uno che sa operare il parametro zero adesso bisogna vedere se sa vendere come sa vendere perché questa è una caratteristica molto importante e quindi attendiamo e vediamo tanta carne a cucere ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione dovrete facebook instagram twitter tutto quello che vorrete sarà lì giù troverete anche già sette shorts il mio canale pubblico teleclippi anticonici momenti divertenti del canale tic toc preferiti lo c'è la prossima volta sempre comunque tutta la vita forza napoli